Un momento di azione è attraverso i reparti che condividono con l'assemblea, quindi con tutti e chi non ha partecipato alle proprie proposte, eccetera, e poi una parte in cui si parla magari di argomenti che possono interessare tutti, che sono di sinistra, perché logicamente non sono di sinistra. Io sono iscritto a un partito, ma non mi interessa, per me la fabbrica non deve essere un partito, se no me ne stavo in self perché io sono iscritto lì, sto anche bene, cioè... Però è bello condividere con persone che la pensano anche riversamente da me, che non hanno mai partecipato a qualsiasi tipo di attività politica, partitica, eccetera, le cose insieme, perché se no non si andrà mai avanti, la sinistra sarà sempre una cosa settaria in cui ognuno si vede un po' come il cugino, però insomma alla fine chi se ne frega se rifondazione perde, sta anche bene che sono sulle balle, cioè, capito? Però così non vai avanti, basta.